Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Questo parla di una fine del mondo. Questo mondo cesserà. Un giorno arriverà una fine, l'ha detto il Signore Gesù. Siamo evangelisti. Cioè cercate la verità. Siamo venuti a predicare Cristo, la salvezza, la potenza di Dio. Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Vogliamo dire questa mattina che Gesù è morto per purificare i nostri cuori. L'unico che ci purifica dai peccati è Gesù, è Cristo, è la salvezza, la redenzione. La vita eterna è solo in Gesù. Non fatevi ingannare dalle religioni. Le religioni sono solo un giro di denaro, business, cominciando dal Vaticano. Il Vaticano è un luogo di idolatria. La salvezza è solo Gesù, è Cristo la salvezza. Non è una religione. Le persone dicono che hanno una religione ma vivono nel peccato. Il loro cuore non cambia. Continuano a commettere adulterio, a bestemmiare, a ubriacarsi, a fumare, a dire le parolacce, le bugie. Che religione è quella lì? La verità è seguire Cristo, cari dell'azzo. Noi siamo seguaci di Cristo. Amén. Siamo missionari evangelisti. Alleluia. E predichiamo in ogni luogo il Vangelo. Glorie a Dio. Il Vangelo è la potenza di Dio. Amén. Per la salvezza di chiunque crede. Anche tu se credi, troverai quella potenza di Dio, dello Spirito di Dio, che ti trasformerà. Ti trasformerà. Ti trasformerà. Credete nel Signore Gesù. Gesù ha detto, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Solo Gesù ha parole di vita eterna. Gloria a Dio. Solo Gesù, Cristo è la speranza per il mondo. Cari di Sabauglia, solo Gesù può darti un cuore nuovo. Alleluia, gloria a Dio. Un cuore puro, perché Lui è il Messia. Il Re dei Re che è venuto sulla terra. Solo Cristo è il suo. Alleluia. La via, la verità e la vita. L'alfa e l'omega. Il principio è la fine. Il verbo di Dio. Gesù vuole rinforzarti a Gesù Cristo, il Salvatore. Piedi perdono dei tuoi peccati al vero Dio. Il Dio di Israele. Il Dio della Bibbia. Ti vuole perdonare, ti vuole liberare, ti vuole salvare, ti vuole purificare dentro. Gesù vuole liberarti dai peccati che hai dentro. Alleluia. Non basta avere una religione, cari. Se poi il cuore è pieno di cattivi pensieri, il cuore, la mente è piena di iniquità, di sforcizia. C'è potenza nel sangue di Gesù. Gesù vuole purificare il tuo cuore. E' così che la vita viene trasformata quando Gesù Cristo entra nei nostri cuori. Perché Gesù Cristo è reale, popolo del Lazio. Gesù non è una statuetta. Gesù non è un'immagine di legno. Gesù non si trova nelle processioni. Gloria a che sia. Generali nei duomi e tantomeno nel cosiddetto Vaticano. Il Vaticano è un luogo di idolatria, dove c'è il diavolo, il demonio, l'inganno, il Dio denaro. Cercate Gesù in verità, mentre c'è tempo. Convertitevi al Re dei Re. Cercate la salvezza. In Cristo. Ravvedetevi dei vostri peccati. La Bibbia dice che c'è un solo Dio e un solo Mediatore tra Dio e l'uomo che è Gesù Cristo. L'unico intercessore è Gesù. Tu non devi pregare un santo, una cosiddetta santa, un cosiddetto San Gennaro, o San Cosimo, o San Pasquale. No. Solo Gesù è la speranza. Alleluia. Solo Gesù è la salvezza. Così dice la Bibbia. Solo Cristo intercede per noi. Alleluia. Alla destra del Padre. Perché solo Cristo morì per i nostri peccati. E solo Cristo risuscitò il terzo giorno. Tu non ti devi aggrappare una santa, una cosiddetta Madonna, a un cosiddetto intercessore. Ma è Cristo la salvezza. Alleluia. Oh, gloria al Signore. Prendi qua che devo leggere un brano della scrittura. Aggiutati, Signore. Solo Gesù è la via che porta in cielo. Noi siamo venuti a evangelizzare stamattina in questa cittadina del Lazio. Se non vado errato, provincia di Latina, vero? Siamo qui a proclamare il nome di Cristo. Il Salvatore che vuole salvare i peccatori. Vuole salvare te, Gesù. Gesù vuole salvare anche te, uomo o donna. Come ha salvato noi. Amè. Dalle tenebre di questo mondo. Noi che eravamo persi. Eravamo da condannare. Io dovevo essere condannato per i miei peccati. Ma Cristo morì per me. E dal giorno che ho creduto in Lui direttamente, non in una cosiddetta chiesa. Perché nelle chiese c'hanno il Dio denaro. Alleluia. E devo credere in Cristo. Dai il Dio cuore a Gesù. Alleluia. Direttamente. Non c'è bisogno che ti inchini davanti a una statua. Quella è idolatria. La Bibbia condanna l'idolatria. Io non so che Bibbia c'ha Bergoglio lì nel Vaticano. Uno di questi giorni devo andare lì a predicare. Bergoglio. Che Bibbia hai? Che sei un'idolatra che ti inginocchia le statue. Così li dirò nel nome di Gesù. Vediamo se mi ascolto. Alleluia. Con l'aiuto del Signore. Perché nei dieci comandamenti dice la Bibbia. Io sono il Signore Dio tuo. Non avere altri dei davanti a me. Non fatevi immagini né sculture. Come mai loro sono pieni di idoli? Lì al cosiddetto Vaticano. Come mai sono pieni di idoli? Sono veri i servi di Dio loro? No. Non sono veri. Perciò aggrappatevi a Gesù, carissimi del Lazio. Gesù ha pagato il prezzo del sangue. Ha dato il suo sangue alla croce. Ha dato il suo sangue al Monte Calvario. Alle porte di Gerusalemme. Questa è storia. Ed è la verità più potente che ci libera dai nostri peccati. Alleluia. Non devi andare a confessarti da un cosiddetto prete. Loro non hanno nessun potere di perdonarci. Ma è Gesù il grande sacerdote. La Bibbia lo dice. Il sommo sacerdote è Gesù. Non aggrappatevi a quegli uomini lì del clero, cosiddetto clero romano. No, 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 no. Loro sono grandi menzogneri. Aggrappatevi a Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Cristo vive. Cristo è la fonte della vita. Cristo è l'alfa e l'omega. La luce del mondo. Il re di gloria è Gesù. In nessun altro vi è la salvezza. Io voglio leggere un brano. Nel Vangelo di Luca al capitolo 24. Non lo so. Amen. Gloria al Signore. È andata a giocare. Luca 24. Benedetto Dio. Al versetto. Alleluia. Signore aiutami a trovare questo versetto. Gloria a te, Signore. Amen. Cristo regna. Alleluia. Guido, c'è Spirito Santo. Nel nome di Cristo meraviglioso. Spirito Santo. Nel Vangelo di Luca, capitolo 24. Gesù disse. Era necessario che il Cristo morisse e soffrisse. E che il terzo giorno risuscitasse dai morti. Era necessario che il Cristo soffrisse. E che il terzo giorno risuscitasse. Alleluia. E che nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione, il pentimento e il perdono dei peccati. Cominciando da Gerusalemme. Alleluia. Alleluia. Sono passati più di venti secoli. Duemila anni e più. Venti secoli. Che Gesù è morto a Gerusalemme. E lui è risuscitato. Lui è la verità. Ragazzi e meno ragazzi. Alleluia. Gloria a Dio. Giovani e vecchi. Ricchi e poveri. Dammi due da cinque. Sono passati venti secoli. Da quando Gesù è risuscitato dai morti. E lui ha detto. È necessario che nel suo nome. Cioè nel nome di Cristo. Non nel nome di una religione. Alcuni vanno nel nome delle religioni. Vaticano, Cattolicesimo. Ma sono indemoniati. Quelli del Vaticano sono falsi profeti. Non date retta loro. Credete in Cristo. Cristo è la verità. Cristo è il maestro. Cristo è la via. Alleluia. Tanti di voi adesso non volete ascoltare. Fate finta di niente. Fate orecchi da mercanti. Ma questa è l'unica verità. Cristo crocifisso. E Cristo risorto. Nel quale vi è la potenza. Alleluia. Di liberare i peccatori. Come ha fatto con me. Se io oggi predico. È un miracolo. Io prima bestemmiavo. Mi ubriacavo. Ero una pecora nera. Perduto. Nel vizio. Ma Gesù mi ha fatto dono di grazia. Di salvezza. E mi ha fatto una chiamata di predicare. Perché Gesù prende gli ultimi della società. E li rigenera. Li fa diventare. Alleluia. Discepoli suoi. Ancora voi. Cercate Gesù. Non nelle statue. Le statue non hanno vita. Cari del Lazio. Ve lo dico con amore. Cercate Cristo nella parola. Leggete i Vangeli. Cari. Leggete le sacre scritture. La luce di Gesù vi illuminerà. Alleluia. La verità vi renderà liberi. Vuole un messaggio. E grazie. È della parola. Della vita. Devo benedicare. Gesù ha detto. Conoscerete la verità. Alleluia. La verità vi renderà liberi. Gesù vuole renderti libero. Ecco perché lui comandò agli apostoli. non di fare cattedrali, duomi o vaticani. Ma di andare in ogni luogo a predicare. Come mai a Roma hanno costruito tutta quella roba lì. Il Vaticano. Piazza San. Dove è scritto nella Bibbia. Gesù non ha comandato di costruire tutto ciò. Gesù disse ai discepoli. Andate in tutto il mondo a predicare il mio Vangelo. Il mio Vangelo è andato a predicare. Gesù non ha mai detto. Andate a costruire il Vaticano. Andate a costruire le cattedrali. Andate a costruire il Duomo. No. Quello è un inganno. Lì c'è un giro di denaro. C'è il business al Vaticano. C'è il Dio denaro. Non credetelo. Credete a Cristo. Certo che c'ho ragione. Bravo. Amen. C'ho ragione. Perché la parola di Dio lo dice. Seguite Cristo. Ve lo diciamo con amore. Leggete i Vangeli. Gloria a Dio. E sarete illuminati. Sarete salvati. Perché il Vangelo è la verità. Alleluia. Vedete come dicono. Hai ragione. Tanti. Perché la verità fratelli. Noi dobbiamo dire la verità. Che Signore Gesù ci insegna. La Bibbia dice. Che il Dio. Non abita in un tempio. Fatto dalle mani dell'uomo. L'Eterno. L'Onnipotente. Non abita in un tempio. Fatto dalle mani degli uomini. O in una statua. Gesù è spirito. Alleluia. Gesù è il Re dei Re. Cercate la verità. E' il Re dei Re. Il Re del Re vuole aiutare. Vuole prendere il controllo della tua vita. Alleluia. Dirigerti nel buon sentiero. Gloria a Dio. La via della salvezza. La via della grazia. La via della verità. Gesù vuole guidarti in essa. Non seguire le vie del peccato. Le vie della ribellione. Non seguire le vie della disubbidienza. Chiedi perdono a Gesù. Chiedi aiuto a Gesù. Gesù è la speranza. E' il Redentore. Oh, alleluia. E' colui che guarisce. Gesù è colui che perdona. Alleluia. Aiutati a stare concentrato nella predicazione. Gesù è la speranza. Il Verbo di Dio. La verità inconfutabile. Assoluta. La verità che nessuno può contraddire. Gesù è la verità. Lui dice io sono l'Alfa e l'Omega. Il principio e la fine. Gli apostoli dissero che Gesù è la pietra angolare. Gloria a Dio. Gesù è il fondamento. Santo sei. Della vera Chiesa. E la vera Chiesa non è quella di Roma. La vera Chiesa non è quella che è al Vaticano. Non confondetevi. La vera Chiesa sono i veri cristiani. In ogni luogo. Perché il Signore Gesù disse. Gesù disse. Dovunque ci sono due o tre riuniti nel mio nome. Io sono lì presente. Questa è la Chiesa. Dovunque ci raduniamo come cristiani. Le Chiese non sono le strutture. I duomi. I Vaticani. Le cattedrali. Le Chiese non sono quelli edifici. La Chiesa siamo noi. Le persone che credono in Cristo. Alleluia. Questo è per i poveri. Dallo a loro. Dallo a loro. Fai loro. Fai loro. Fai loro a te perché tu stai parlando di cose che stanno importanti. Ti dimentico. Dio ti benedico. Dallo io. Dallo a qualcuno che ha bisogno veramente. Magari gli fai la spesa. Grazie. Grazie del tuo buon sentimento. Che Signore ti benedica. Dio ti benedica. Qua c'è il nostro canale qua. Solo canso salvo. Dio ha visto la tua attitudine. Dio ti benedica. È piacevole davanti a Dio. Grazie. Dio ti benedica tanto. Credete nel Vangelo, cari. Alleluia. Gloria a teo santo nome. Credete nel re dei re. Santi seggiorno. Gesù è la speranza della gloria. Guarda che bello. Oh sei amatita. Gloria a Dio. Gesù è la speranza della gloria. Abbiamo letto nel Vangelo di Luca, capitolo 24, che sta scritto che era necessario che il Cristo soffrisse e morisse per tutti noi e che il terzo giorno risuscitasse. Era necessario. Gloria a Dio. Lui venne dal cielo per questo, per morire per noi. Alleluia. Per compiere un sacrificio spiatorio, un sacrificio per la nostra redenzione e è necessario, cari del Lazio, che nel suo nome si predichi il pentimento, la conversione e il perdono dei peccati a tutte le genti. Vieni, vieni davanti. Dobbiamo predicare il Vangelo a tutte le genti. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Perché nel nome di Gesù c'è il perdono dei peccati. Pramite la fede in Cristo c'è il perdono dei peccati. credete in Cristo, seguite Cristo e sarete salvati. Segui Cristo, non una religione. Non serve che dici che sei cattolico. Non serve nulla o che sei musulmano o buddista. Devi seguire Cristo. Amén. Alleluia. Cristo è la verità. Leggete il Vangelo. Amén. Cristo è la salvezza. Seguite Cristo, cari. Santo sei Gesù. Siamo qui a Sabaudia, provincia di Latina nel Lazio. È una gioia vedere come ci sono cuori che ascoltano quando diciamo che Cristo è morto per noi, Cristo è l'unica salvezza, Cristo è l'unica volontà. E anche quando diciamo che non è la chiesa romana che può salvare, anzi loro sono falsi. Alleluia. La gente dice vero e giusto. Perché noi dobbiamo dire la verità, fratelli. E la verità può toccare i cuori, la verità di Cristo. Santo sei Gesù. Seguite Gesù. Alleluia. Il vero cristianesimo è seguire Gesù. Non una religione, non i dogmi o le statue. Sapete che la Bibbia proibisce di avere statue? Quello non è il vero cristianesimo dove sono pieni di statue. Di idoli, di immagini di pietra che la Bibbia chiama idoli morti che hanno occhi ma non vedono. Le statue hanno occhi ma non vedono, bocca non parlano, piedi non camminano. La Bibbia è piena di espressioni di questo genere che parlano contro l'idolatria. Ma c'è una cosiddetta chiesa che si chiama cattolica. Loro sono pieni di idoli, statue, immagini. Santo sei Gesù. Il vero cristianesimo è seguire Cristo, cari. Alleluia. Amen. Seguire Gesù. Non confidare nei cosiddetti santi o sante. Ogni paesino c'è un santo diverso. C'hanno migliaia di santi ma non credono in Cristo. Io predico in tanti luoghi d'Italia e ovunque vado vedo idoli diversi, altarini, santini, immaginette, figure di legno, di metallo, fanno processioni, accendono candele. Quello non è il vero cristianesimo. Il vero cristianesimo è seguire Cristo nella semplicità, nella verità, cari e cari che ascoltate. Gesù disse, ascoltate un attimino, chi vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Essere cristiani vuol dire seguire Cristo, cioè il Messia. Alleluia. Non i dogmi, non le statue, non i riti romani-cattolici che sono antibiblici. Leggete la Bibbia, cari, e scoprirete la verità di Gesù Cristo che venne a liberarci dal peccato. Lui venne a liberarci dall'inferno. Gesù sacrificò se stesso alla croce. Lui morì per te e per me, per ognuno di noi. Cristo morì. Era necessario che lui soffriva, che lui moriva. Gli hanno trafitto il costato con una lancia, proprio i romani. Attenzione, non siate anche voi colpevoli. Se voi non credete, voi sarete colpevoli con i romani, con gli imperatori, con Pilato. Sarete colpevoli uguali a loro. Se tu non credi in Gesù, se tu non ti penti, se tu non ti converti, nel giorno del giudizio, l'Eterno ti dirà, allontanati da me e vai nel fuoco eterno, preparato per Satana e i suoi angeli. Gesù lo dice nel Vangelo. Perciò, alleluia, noi vi diciamo di convertirvi. Sì, prega Dio, prega che è meglio, prega, prego ha detto, prega, che ti farà bene, alleluia. Prega Dio, in spirito e in verità. Credi, credi in Gesù. Gesù non è una religione. Alleluia, Gesù non è una statua. Gesù non è in un tempio materiale, in un duomo, in una cattedrale, e ne tantomeno nel Vaticano. Gesù è in cielo. Noi dobbiamo guardare al cielo. Gesù è seduto nel trono della sua gloria. E l'unico modo per conoscere Gesù è tramite il Vangelo. Leggete il Vangelo. Leggete la parola del Signore. Leggete le Sacre Scritture. Un messaggio della Bibbia. Credete nel Nazareno, cari. Gesù è venuto nell'umiltà. È entrato sopra un asinello a Gerusalemme. Lavò i piedi dei discepoli. Nacque in una stella. Alleluia. Non come oggi quelli lì di Roma. C'hanno il Papa mobile, c'hanno gli appartamenti di lusso a Roma. I cardinali sono miliardari e non aiutano i senza tetto che c'hanno lì. Sotto le porte del Vaticano. Sono grandi ipocriti. Sono falsi profeti, idolatri, amanti del denaro. Addirittura tanti di loro sono omosessuali, pedofili. Preti gay vanno nelle saune a Roma notturne. Nei locali notturni. Ho visto un documentario, lo cercate su internet, c'è. Perciò lì non c'è il vero Dio. Bisogna cercare Cristo nella Bibbia. Alleluia. Cercare Gesù nel Vangelo, nella scrittura, nella parola. Ecco perché Gesù disse, conoscerete la verità, la verità vi renderà liberi. E' vero, alleluia. La verità è nella parola. Gloria a Dio. Se la Bibbia dice, per esempio, nei dieci comandamenti è scritto, io sono il Signore Dio tuo, non avere altri dei davanti a me, non fatevi immagini né sculture. Dieci comandamenti. Come mai loro sono pieni di immagini e sculture loro lì a Roma? Sapete dove parlo lì? In quel cosiddetto luogo San Pietro, Vaticano, eccetera, eccetera. Come mai sono pieni di statue, immagini, se la Bibbia dice di non farle. Nei dieci comandamenti, ma poi ci sono centinaia di versetti nella Bibbia, sia nel Pentateuco, cioè nei primi cinque libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. La legge di Mosè, alleluia. Dice di non fare idoli, statue e immagini. Poi nei profeti, nei salmi e anche nelle pistole degli apostoli. L'apostolo Giovanni disse, figlioletti, fuggite dagli idoli. Gli idoli sono pure le immagini, le statue, le rappresentazioni, le sculture. E lì a Roma sono pieni, fino al collo. Sono immersi nell'idolatria. Lì non c'è il Signore, cari di Roma. Lì c'è l'inganno. C'è il Dio denaro. Ma voi cercate la verità in Gesù. Amen. Guarda che bel luogo per predicare. Voi cercate la verità in Gesù. Credete in Gesù. Come dice il libro, alleluia, di Isaia, capitolo 55. Dice, cercate l'Eterno. Alleluia. Cercate il Signore. Mentre lo si può trovare. Alleluia. Invocatelo mentre Egli è vicino. Cercate il Signore, ve lo dico col cuore, cercatelo nella Bibbia. Leggete la Bibbia, leggete il Vangelo. Se ce l'avete a casa. Apritela, Sacra Scrittura. Glorie a te, Signore. Glorie a te, Signore. Glorie a te, Signore. Dalle menzogne che ci sono in questo mondo. Non fate l'ingannare dall'idolatria, dal peccato, dal materialismo. Questo mondo passerà. Alleluia. Cari del Lazio, cari di Latina, di Sabaudia, e anche voi stranieri che siete qui, questo mondo passerà. Non vivere per il Dio denaro. Il Dio denaro un giorno finirà, non ci sarà più. Il mondo passerà, lo dice la scrittura. E tutte le cose che sono nel mondo, ma chi fa la volontà di Dio rimane eterni. Amén. Impegnatevi a fare la volontà del vero Dio. La volontà di Gesù Cristo. Gesù Cristo vuole che ubbidiamo la Sua parola. Ubbidiamo i Suoi comandamenti. Ubbidiamo i Suoi insegnamenti. Solo così possiamo essere veri cristiani. Se seguiamo gli insegnamenti del Cristo. Tu non sei cristiano solo perché porti una croce al collo o perché sei stato battezzato da bambino. No, quello non serve niente. Alleluia. Tu non sei cristiano perché hai fatto la cresima e la prima comunione. No, quelle cose non servono. La Bibbia non parla di fare le cresime o le prime comunioni. La Bibbia dice di seguire Gesù. Alleluia. I veri cristiani sono quelli che vivono per Cristo. vivono per il Vangelo. Vivono per il re del Re come gli antichi discepoli. Sapete quanti cristiani sono morti a Roma? Nei Colossei. Nelle arene. Morivano per il Cristo. Non come oggi. Le persone dicono noi siamo cristiani. Vanno a messa, poi escono fuori e vanno con l'amante. Vanno ai pub a ubriatarsi. Seguono il vizio, il peccato, l'ingiustizia. Sono sleali, bugiardi, ingannatori. Vivono nell'odio. Alleluia. No, cari, bisogna lasciare il peccato. Alleluia. Bisogna far morire il vecchio uomo. L'uomo vecchio deve morire. Dobbiamo rinascere in Cristo come uomini nuovi tramite la fede. Questo predicava Paolo Apostolo. L'uomo vecchio deve essere tolto. Dobbiamo vivere nell'uomo nuovo. In Cristo. Alleluia. Gloria a Dio. Vivere nella verità. Santo il tuo nome. Vivere. Alleluia. Vivere secondo gli insegnamenti del Signore. Alleluia. Voglio dire ancora una cosa prima di finire. Gesù ha insegnato che i due più grandi comandamenti sono questi. Ama dunque il Signore Dio tuo. Alleluia. Con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e la tua mente. Amè. Ama il Signore. Ama il Signore Dio tuo. Con tutto il tuo cuore. E ama il tuo prossimo come te stesso. Questi sono i due più grandi comandamenti che riassumono la legge e i profeti. Santo sei Gesù. Amare Dio con tutto il nostro essere. Santo sei Gesù. E amare il prossimo. E oggi le persone, purtroppo nella grande maggioranza delle persone, non stanno facendo questo. Stanno vivendo per se stessi. Per i loro piaceri, i loro interessi. Santo sei Gesù. Non amano Dio. Amano un altro Dio. Con la di minuscola. Un Dio falso. Il Dio denaro. Ci sono uomini che per il Dio denaro fanno follie. Fanno pazzie. Per il Dio denaro fanno cose malvagie. Per il Dio denaro c'è la corruzione. Vendono perfino i genitori. Vendono droga. Per il Dio denaro uccidono. Fanno le guerre. Alleluia. Santo sei Gesù. Cari, noi dobbiamo amare il vero Dio. Il Dio è padre del nostro Signore Gesù Cristo. Che ha dato suo figlio per noi. A morire per i nostri peccati. Perché sta scritto nella parola. Che era necessario. Alleluia. Alleluia. Che il Cristo soffrisse. Perché ciò era stato predestinato. Fino dalla fondazione del mondo. Dio aveva prestabilito che l'agnello doveva morire. Il Cristo doveva morire. Il Messia doveva morire per noi. Perché solo così poteva esserci la redenzione dell'umanità. gloria a te Gesù. Alleluia. Tramite il sacrificio espiatorio del figlio di Dio. Quando era sulla croce. Se vi ricordate. Gesù disse queste parole. Padre. Padre. Tutto è compiuto. E poi disse. Padre. Perdona loro. Non sanno quello che essi fanno. Alleluia. Gloria a Dio. Che i piedi della croce. C'era un centurione romano. Alleluia. Che quando vive. Che il figlio di Dio. Il Messia. Spirò. E consegnò il suo spirito nelle mani del padre. Disse veramente. Costui era il figlio di Dio. Amén. Un centurione romano. Anche i romani si possono convertire. Amén. Dice il Messia. Più tu che ascolti. Anche oggi. La salvezza disponibile anche per te. Gloria a Dio. Alleluia. Riconosci che Cristo è morto anche per te. Che lui ha dato il suo sangue. Ha dato il suo amore. La sua misericordia. Cari. Lui era innocente. Lui non doveva morire. Ma morì per noi. Al posto mio. Al posto tuo. Noi meritavamo la morte. La condanna. E il castigo. Ma lui portò su di sé le nostre iniquità. Alleluia. L'agnello di Dio. Gloria a Dio. Se tu credi questo sarai salvato. Sarai liberato dai tuoi pezzi. Dalle tue angosti. 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 Se tu credi questo. Il padre ti perdonerà. Dio il padre. Nessun altro. Gesù disse anche. Non chiamate nessuno padre sulla terra. È scritto in Matteo 23,9. Se lo ricordo. Matteo 23,9. Non chiamate nessuno padre sulla terra. Non dobbiamo chiamare nessuno padre. Tanto meno quello lì che a Roma. Lì seduto su un cosiddetto trono. Lì al Vaticano. Padre santo si fa chiamare. Santo padre. Ma quale santo padre? Loro sono idolati. Amanti del denaro. Sono predicatori di manzoni. Loro lì. Gesù ha detto. Non chiamate nessuno padre. Uno solo è il padre. Colui che sta nei cieli. Amè. Lo dice il Vangelo. Gloria, gloria a Dio. Perciò aggrappiamoci al padre. Ve lo dico come un vostro fratello. Che vi voglio inculcare la fede. Quella vera di Gesù Cristo. Alleluia. Aggrappiamoci al padre. Tramite il suo figliuolo Gesù Cristo. Alleluia. Perché c'è un solo mediatore tra Dio e l'uomo che è Gesù Cristo. Vuoi il messaggio della vita, signore? Ti grado. Vuoi il messaggio della vita? Leggi il Vangelo. Gesù è l'unico mediatore. Aggrappiamoci solo a Gesù. Amè. Con queste parole noi vi salutiamo nell'amore di Dio. Desiderando che anche voi coltivate questa fede. Leggete il Vangelo. Amè. Leggete la parola. Trova tempo. Non dire che non hai tempo. Alcuni quando predico anche nei mercati. No, io non c'ho tempo. Io devo lavorare. Però c'hai tempo per stare su Facebook. C'hai tempo per chattare. C'hai tempo per guardare le partite. Ma non c'hai tempo per leggere il Vangelo. Vedi che sei un bugiardo. Gesù ti vuole aiutare. Trova tempo per dire. Amè. Anche tu che sei lì che ascolterai. Trova tempo per Gesù. Trova tempo per leggere la Bibbia. Per leggere la parola. Trova tempo. Non farti prendere dalle ansietà. Dalla vita materiale. Non farti trascinare dalla corrente. Dalla folla. Fatti trascinare dallo Spirito Santo. Amè. Che ti guiderà nelle vie del Signore. Amè. Alleluia. Dio sia la gloria. Dio sia il Vangelo. Alleluia. Glòria a te, Signore. Grazie a Gesù. Alleluia. Alleluia. Gesù dice io sono il pane della vita. Io sono la via, la verità e la vita. Amè. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue e non resterà nell'eterno. Glòria a Dio. Alleluia. Deus è fiel. Ma avrà la luce della vita. Amè. Glòria al nome potente di Gesù. Amè. In tutto, in eterno. Amè. Gloria a Dio. Amè. 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 Gloria a Cristo Gesù. Il Re di gloria. Il Signore vi benedica, cari fratelli. Tutta la gloria va da Dio, che solo Lui ci dà la forza di predicare. Noi siamo qui in provincia di Latina. Alleluia. A dichiarare la parola del Signore qui in questo mercato. Siamo per grazia e per fede. Alleluia. Dio vi benedica, vi saluto nel nome meraviglioso di Cristo, il Signore. Shalom. Shalom Adonai. Alleluia. Nel nome del nostro Re dei Re, glorioso Signore e unico Salvatore. Gesù Cristo, benedetto in eterno.